Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come risolvere il problema riguardo alle porte USB che non funzionano su PC quindi in questo caso vai direttamente sul logo di Windows, tasto Start, tasto destro sopra, gestione dispositivi ti porterà sul gestione dispositivi dove ci saranno tutti i tuoi dispositivi collegati al tuo PC e ci saranno anche il controller USB, tutte le porte USB e ovviamente se c'è un triangolo giallo vicino a queste porte USB tu fai tasto destro sopra, fai Disinstall dispositivo e reinstall dispositivo e poi fai Aggiorna driver, cerca automaticamente driver e ti porterà a cercare i driver aggiornati in Windows Update se in questo caso non dovesse funzionare questa cosa perché se c'è quel triangolo oppure c'è una X che il dispositivo non funziona quindi va per forza disinstallato il dispositivo, reinstallato e riavviare il sistema operativo oppure puoi fare così, sempre il triangolo giallo vicino, fai Disinstalla e poi fai Riavvia il sistema ok? e riavviare il sistema se non dovesse funzionare chiudiamo un attimo qua e andiamo sul CMD il prompt dei comandi il CMD va avviato come amministratore tasto destro sopra, esegui come amministratore in descrizione vi ho lasciato un comando da aggiungere sul CMD che poi una volta aggiunto fate invio e si aprirà così una schedina per correggere l'errore della porta USB quindi tu vai a scrivere msdt.exe spazio trattino id spazio device diagnostic e fai invio si aprirà così, risolvere e prevenire problemi del computer hardware e dispositivi fate avanzate, esegui operazioni di ripristino automaticamente e fate avanti una volta fatto vi dirà ogni singola cosa che vi potrebbe servire nel senso che puoi decidere quale dispositivo puoi aggiustare e quale dispositivo puoi dire al computer quale devi aggiustare e quale devi ripristinare tipo i dispositivi, questi qua sono i tre dispositivi che uso però sinceramente questi ritengo disabilitati, tutti disabilitati e il mio dispositivo non è incluso nell'elenco e faccio avanti continuerà a rilevare così dei problemi per vedere se ci sono e una volta fatto puoi direttamente aggiustarli o tu manualmente o lo fa direttamente il computer riavvia il pc per completare l'installazione dei driver e degli aggiornamenti fai applica la correzione, farà il riavvio e stai certo che poi andranno a funzionare di nuovo quindi io non lo faccio l'applicazione perché io non ho nessun problema da risolvere quindi se questo video ti è stato utilissimo, se hai problemi commenta e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo Dottoria ciao